Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo video, come sempre tizio andiamo avanti con la nostra allenatore con il Torino Volevo innanzitutto ringraziarvi perché per essere stato messo a Natale, lo scorso episodio ha fatto davvero un boom Soprattutto di entusiasmo, di commenti e mi fa davvero piacere che vi stia piacendo questa carriera Vado a vedere qualche commento dello scorso episodio che ho pescato un po' così a caso Bruno degli Allissi, degli Allisi, Bruno degli Allissi No ragazzi, mi prego Bruno degli Allissi, tizio, questo sarà il tuo ultimo anno con il Torino? Se sì, quale sarà la tua prossima squadra? Allora, no, non sarà il mio ultimo anno con il Torino, penso di voler fare un'altra stagione con il Toro Poi dopo non lo so, dopo la terza stagione con il Toro decido se farne un'altra Se vedere un po' quali squadre mi chiamano oppure inizierò un progetto tutto nuovo Quindi vedremo, però sicuramente non finirà qua la mia carriera Poi Clicktop Anime26, tizio, ci fai vedere i gironi di Champions? Sono curioso di sapere chi ha eliminato il Reale e il Barça Qua ci sono stati addirittura 60 pollici in su con anche Cristiano Socoli che ha scritto Anch'io, anch'io, e quindi andiamo a vedere subito come sono andati i gironi di Champions Perché comunque rimane il dubbio di come è stato possibile vedere Reale e Barcellona Nelle fasi finali, a parte che qua cosa vedo? Ah no, Atalanta-Inter, finale di Coppa Italia Però più che altro rimane appunto, come dicevo, il dubbio di come è stato possibile una cosa del genere E questo è tutto il girone del Barcellona, il gruppo C Che comunque ha visto il Barcellona fare due vittorie, due pareggi, due sconfitte Esattamente quello che abbiamo fatto noi nel nostro girone, si può vedere qua Solo che al Barcellona è andata male perché è stato superato dal Marsiglia a 9 punti Dal Borussia Dortmund a 12 e quindi sono passati Marsiglia e Borussia Dortmund Con il Borussia che poi è arrivato addirittura in semifinale Quindi era una delle candidate alla vittoria, Barcellona che incredibilmente ha perso due partite E questo fa pensare che in effetti Barcellona così imbattibile non lo è quest'anno E la stessa sorte l'ha avuta il Real Madrid Anche loro due vittorie, due pareggi, due sconfitte Dove sono passati invece Lazio e Borussia Mönchengladbach Quindi è chiaro che dietro a ogni sconfitta c'è sempre una spiegazione Un Torino che arriva terzo nei gironi è più comprensibile Un Barcellona e un Real che si fanno superare da squadre come Marsiglia, Lazio, Borussia Mönchengladbach Sono un segnale che forse sono due squadre che hanno magari degli interpreti molto forti Ma che sono un po' in crisi E noi abbiamo approfittato di questa crisi vincendo la semifinale col Barcellona E adesso andremo ad affrontare il Sevilla in finale Anche se comunque come molti di voi mi ricordavano Siamo nel frattempo anche primi in campionato E quindi non bisogna assolutamente sottovalutare adesso le prossime partite Abbiamo la possibilità addirittura di fare una doppia coppa nel finale di stagione Provare a vincere sia il campionato che l'Europa League Non è una cosa facile però se ci dovessimo riuscire sarà veramente una grande impresa Nel frattempo vado a fare le formazioni La formazione è una E poi dopo andiamo ad affrontare la prossima partita di Serie A Ed eccoci qua ragazzi 30 aprile 2017 Leggenda 5 minuti coperto Andiamo ad affrontare in casa l'Udinese Speriamo che il pubblico ci trasmetta tutto l'entusiasmo E tutta la spinta, la carica per questa gara Perché tornando dal Camp Nou saremo abbastanza tesi Abbastanza ancora stanchi mentalmente e fisicamente Dall'impresa con il Barcellona E ritrovarsi poi tornando in Italia al primo posto E dover affrontare questa gara sapendo di dover vincere Non è una pressione da poco Quindi speriamo vada tutto bene Bellerin Gold dentro Attenzione Martinez Tiro Rasoterra Comunque direzione porta Poi c'è stata questa deviazione Calcio d'angolo Va Gold dalla bandierina Calcio d'angolo Interessante In mezzo Jansson arriva Burkic Occhio Duvan Zapata No La passa Alato Mamma mia E Denilson La spara fuori E un po' si arrabbia Duvan Zapata Che è stato altruista A passarla sulla destra Belotti Ruba palla Sbagliato lo stop del difensore dell'Udinese Belotti 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 Tiro Rete Il gallo a Belotti Cinico Come un vero numero 9 deve essere Anche lui È stato molto bravo quest'anno È riuscito a fare benissimo il vice di Marziale Senza mai rompere troppo le scatole E in questo caso è stato molto bravo Ruba palla al difensore Il difensore evidentemente lenti Non riescono a stargli dietro E quindi lui arriva sotto porta E poi dopo mette questo tiro a giro Sul secondo palo E siamo 1-0 ragazzi Crediamoci Fino alla fine Largo per Zappacosta Arriva sul fondo Il cross è bellissimo Sturgeon riesce a sbagliare pure questo E poi Belotti 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 In grandissimo spolvero quest'oggi Davanti al nostro pubblico Incredibile Il cross molto bello di Zappacosta Poi colpo di testa Di Sturgeon che prende L'incrocio Penso adesso rivediamo Sì proprio l'incrocio Poi Belotti Arriva dalle retrovie In mezzo all'area Segna 2-0 Devo dire che È molto più facile giocare a FIFA Adesso che sono primo Mentre prima Finché stavo Nella zona Del quinto Sesto posto Che è proprio quella Che separa Le squadre che vanno in Europa Rispetto a quelle che non ci vanno Intanto palo Incredibile Però da quando sono uscito Da quella zona Rischiosa Da quel confine In cui ogni partita Sembrava un'impresa Epica Devo dire che sono Tutte partite Molto più fattibili Adesso Poi appena ti distrai Ti prendono il palo Come è successo prima Però se rimani Concentrato fino all'ultimo E difendi molto bene Come di solito faccio La difficoltà Sembra essere calata Forse non c'è più Di mezzo Qualche script Noioso Che mi impediva Di giocare In maniera sciolta Udinese che Dopo il palo Non è più andata così avanti Adesso prova Timidamente A uscire Ma Va a recuperare La palla benassi Noi siamo Devo dire Con tanti uomini In avanti Nonostante il 2-0 Adesso ci prova Cristante 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 Dentro Gold Palo Incredibile Due pali Ma quello che più importa È che Oltre due pali Ci siano stati due gol Quindi penso che oramai Siamo veramente solo Ai titoli di coda Di questa partita Che finisce In questo istante 2-0 Per il nostro toro Continuiamo a volare Adesso sono curioso di vedere A che punto siamo in classifica La cosa che fa un po' impressione È Al di là Che siamo primi Ma penso che sia stata una cosa Abbastanza meritata Fa impressione vedere che Lazio Milan Juve Hanno fatto comunque 6 Barra 7 Sconfitte E che hanno subito tutti Attorno ai 30 gol Mentre noi siamo Ancora a 19 E questo è un po' strano Per essere squadre italiane Che di solito Nella realtà Vincono comunque Campionati regolarmente Quindi Evidentemente Dobbiamo approfittare Di questa strana Coincidenza Per provare A portare a casa Uno scudetto Che all'inizio della stagione Non pensavamo Di poter raggiungere Soprattutto dopo un inizio Un po' difficile Intanto Sono state aggiornate Aggiornate le qualità Dei nostri giocatori Della squadra Primavera Nessun giocatore Sembra promettere Da subito Prestazioni straordinarie Però comunque Sono tutti giocatori Con un ottimo potenziale Quindi Non mi posso lamentare Padelli Vuole andare via E Baselli Inizia a temere Evidentemente Che non abbia fiducia Nei suoi confronti Ma non è assolutamente Così Vado a fare degli allenamenti Ed ecco di qua ragazzi I giocatori allenati Tutti vicini a salire Soprattutto a velare Obi Sembrano essere ormai Lì per salire Sturgeon Si avvicina all'82 A questo punto Spero addirittura Di poterlo far diventare Un 82 Prima del mercato In modo davvero Da guadagnarci Di brutto Dalla sua accessione Ok ragazzi Ho letto le email Erano più che altro Riguardanti Dei giocatori Che sto seguendo E dei contratti Con Gold Che mi ha chiesto Un rinnovo Ho provato a vedere Se riesco a rinnovare E soprattutto Se riesco a fargli accettare Il rinnovo Qua nel frattempo A proposito di rinnovi Vedo che Paloschi Ha rifiutato Il rinnovo di contratto Col Chievo E quindi mi sono subito Fiondato su di lui Perché ci sarebbe In questo modo La possibilità Di strapparlo A poco prezzo Al Chievo Ed è comunque Un giocatore molto valido Una sorta di Belotti Un po' più maturo Un po' più Cresciuto E quindi Comunque vale la pena Seguirlo È sempre un giocatore Italiano Di grande bravura Che segna sempre Tanti gol Ogni anno Sia su FIFA Che nella realtà Ma soprattutto su FIFA Intanto qua vediamo Che la Lazio Ha già giocato E ha vinto Quindi siamo obbligati A vincere Per proseguire Di nuovo Nel nostro sogno Scudetto Un sogno Che abbiamo iniziato A seguire Da pochissimo Ma che oramai Visto che manca poco Alla fine Vogliamo E dobbiamo Inseguire Vado a fare la formazione E poi dopo ci tuffiamo Subito nelle emozioni Della prossima partita C'è la Noglu Keita Da sinistra Centra Si accentra il tiro Sta soffrendo il Cesena Perché siamo Belli schiacciati in avanti Come piace a me Adesso ci prova C'è la Noglu Finta Prova a cercare un barco Ancora c'è la Noglu Tiro Tutto chiuso Però sono tutti dietro Questi giocatori qua Juric Occhio Mamma mia Palla fuori Potevamo Subire questo gol Alla fine del primo tempo Non sarebbe stato sicuramente Un gol meritato Ciano Oddio ragazzi Ciano mi ricordo Che ha il cross Pazzesco Poi tiro Deviazione Calcio d'angolo Ho questa pressione So che devo vincere Se voglio raggiungere la Lazio Quindi Non è Non è una partita facile Si sta trasformando In una partita Anche un po' Nervosa Perché Mentre il primo tempo È stato solo difeso Da parte del Cesena Adesso provano ad attaccare Vediamo se riusciamo a fare Questo contropiede Bravo Che ità Serve Williams 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 Tiro Tiro Perde 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 Un gol Comunque Comunque Detto questo Riusciamo a vincere 0-1 6 tiri 6 in porta Ecco lo li vedete 6 tiri 6 in porta 37% di possesso palla Perché come vi stavo dicendo Durante la partita Il possesso è stato gestito Per gran parte Del tempo Dal Cesena Però poi dopo Un po' Imprecisi Perché spesso Riuscivamo a rubare palla All'altezza più o meno Della difesa Anche un po' più avanti E lì in 2-3 passaggi Eravamo di nuovo In attacco E si è riuscito Ad andare In gol Con Ignaki Williams Poi si è andati di nuovo Vicino al gol Anche con Martial E siamo ancora primi Ripeto Incredibile Il miracolo Di una difesa Così Solida In queste Ultime settimane Per fortuna Saranno tutto bene Manca ancora Se non sbaglio Due partite Sì Fiorentina E Napoli Però tra queste due C'è il Siviglia Quindi sarà davvero Difficile La prossima settimana E io direi che Siccome sto registrando Con un po' di mal di testa Forse l'avete anche capito Che sono un pochino Più sottotono Delle altre volte Credo che affronterò La Fiorentina Ma che aspetterò Di giocare la finale Magari già domani O dopo domani Al massimo Comunque prima del 2016 In modo tale Da affrontarlo Con la tensione Con la concentrazione Giusta Perché comunque Siviglia E Napoli Potrebbero essere Due partite Che decidono Due coppe Come zero E quindi Non posso affrontarle Se non sono Al 100% Di concentrazione Però Fino ad ora Anche se sto giocando Un po' così Comunque Sto dando bene I risultati Quindi anche Con la Fiorentina Direi che gioco Bella notizia Comunque Stavo leggendo Prima Benassi Alla fine Ha accettato Il rinnovo Quindi è stato Lì un po' Un tira e molla Che però Alla fine Non ha portato A un divorzio Grazie al cielo E Benassi E benassi resta In squadra E temo Penso che Resterà Anche Ryan Gold Che accetta Anche lui Il rinnovo Quindi per fortuna Non ci sono Grandi giocatori Che decidono Improvvisamente Di mettere Casino E di volersene Andare Vado a fare L'allenamenti E poi dopo Ci prepariamo Anche per la gara Con la Fiorentina Sperando Che Giuseppe Rossi Non si metta Tra me E il campionato Che devo Provare a vincere Allora Allenamento Per Belotti Doppio per Sturgeon Obi E a velar Temo che Obi Si è arrivato Forse Al limite Di crescita Che può raggiungere Non so se c'è Veramente Un vero e proprio Limite di crescita Però Evidentemente Lui l'ha raggiunto Perché ha proprio La barra al massimo Ma non sale più E vediamo Se salirà In questo allenamento Se si è proprio Bloccato lì Allora Sale Sturgeon Ragazzi Non ci credo Diventa un 82 Questo è Un piccolo Tesoro Che possiamo Piazzare sul mercato Nella prossima Nella prossima Finestra Estiva Vediamo che Obi effettivamente Non sale più A velar ancora Si avvicina di più Al 79 Ma non lo raggiunge Ragazzi Incredibile Questo giocatore In campo Fa delle prestazioni Alcune volte Davvero orrende Però Quanto cavolo È salito E soprattutto Quanto cavolo Sale in fretta Perché Davvero Con 3-4 allenamenti Ti sale subito Cioè mi viene quasi Voglio di tenerlo E fargli raggiungere Il 90 Dopo la Fiorentina Solo due giorni Che ci separa Dalla finale D'Europa League Quindi penso proprio Che con la Fiorentina Schiererò Anche Le merde No vabbè dai Penso che nessun giocatore Nella mia squadra Si possa definire Merda Se non Sturgeon Però Farò comunque giocare Ovviamente I ragazzini Perché La squadra Che ha battuto Il Barcellona Deve essere fresca E pronta Anche per affrontare Il Siviglia Fra due giorni Vado a fare la formazione E poi dopo Ci concentriamo Sulla gara Con la Fiorentina Che è di fondamentale importanza Perché la Lazio È ancora lì A pari merito con noi Mancano due partite Alla fine della campionato Quindi una sconfitta Potrebbe Far crollare Il nostro castello In un attimo E dobbiamo stare Molto attenti Che questa cosa Non avvenga Torino Fiorentina Si gioca di sera Alle 21 Leggenda 5 minuti Coperto Questa è la formazione Che ho schierato C'è comunque Gold in campo Che proverò a cambiare Con Pastore Nel secondo tempo In modo tale Che anche lui Potrà fare il vice Cerenoglu In finale Di Europa League In porta Romero Gomez Diciamo che È la stessa squadra Con cui comunque Sono riuscito ad ottenere Dei buoni risultati Quando avevamo Gli impegni Nelle semifinali Nei quarti di finale E nonostante Questi vari impegni Siamo arrivati Di nuovo Nei primi posti Quindi è Una Seconda linea Di giocatori Che mi ha dato Sempre grandi risultati E spero che lo farà Anche oggi Con la Viola In questa penultima partita Di Serie A Della stagione Eccoci qua in campo Ragazzi In quadratura Per Badeli Arbitro è Gianluca Del Tarano E questa cosa Cambierà Inevitabilmente Gli equilibri Nel nostro episodio Tutto è pronto Penultima partita Di campionato Inizia adesso Con Rossi In campo Kalinic Insomma Temo che C'è scaglia Sulla destra Fortissimo Mi ricordo L'andata È un giocatore Inventato dal gioco Che però Sembra essere Molto forte Del mercato Parleremo più avanti Vediamo un Kalinic Molto arretrato E quindi temo Un Giuseppe Rossi E un Babacar Che proveranno Lì davanti A fare Degli inserimenti E a mettere in difficoltà La nostra difesa Babacar 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 Attenzione Si accentra Il tiro No Mamma mia Era fuori gioco Per fortuna Giuseppe Rossi Ne salta due Poi dentro Babacar Attenzione Ancora Rossi Mamma mia Traversa Poi la palla Cade sul corpo Del portiere Finisce in calcio D'angolo Molto pericolosa Però la Fiorentina Con questa Azione Di Giuseppe Rossi Cristante Si fa soffiare il pallone Al limite dell'area Badeli Dentro Scaglia Badeli Ancora Scaglia Mamma mia ragazzi Vedete quando ci sono Gli script di mezzo Subito la difficoltà Legenda Diventa Infattibile Diventa Insuperabile Però per fortuna Qua la palla esce E al ventesimo Siamo ancora Zero a zero Scaglia Ancora lui Scaglia Cross dentro Non ci arriva nessuno Ragazzi Dobbiamo uscire Però da questo buco difensivo Ci proviamo con Gold Che lancia in profondità Martinez Che è agilissimo E va verso l'interno Martinez Il tiro di prima Di Cristante Tutto bello Ma facile per il portiere Intercettare questo tiro Gold Di tacco Martinez Sul destro Martinez Ragazzi Dobbiamo un po' Migliorare la mira Però eh Perché Tataruzano Fino ad ora Sta facendo un allenamento Attenzione Babacar Cross Dentro Niente Gold Di Matos Reader Matos Mi sembrava di essere riuscito A recuperare il pallone Invece La palla era ancora Fra i piedi di Babacar E purtroppo Cade Dopo Quasi Un mese Direi un mese e mezzo Il nostro muro difensivo Dopo tantissime partite Con le reti inviolate Proprio Nel momento chiave Del finale di stagione Segna la Fiorentina Con questo gol di testa Di Matos E purtroppo La partita adesso Si mette davvero in salita Perché Questo gol Ci condanna Adesso A giocare Tutto per tutto Provare a Ad andare in vantaggio Provare a recuperare Questa partita Non sarà facilissimo Ma è da Un mese Che mi sembra Di giocare Ogni volta Una finale Devo dire che Sono parecchio stanco Quindi purtroppo Ci sta Ci sta subire gol Nel frattempo Ci sto provando Subito a tornare Sul pareggio Con Obi Pala dentro Cristante Cristante Subito Che bella Quest'azione Con Ridwall e Martinez Che erano sulla sinistra Però Ha fatto bene A passarla Obi Qua rivediamo Martinez Che si accentra Obi La passa In mezzo Cristante Fa uno stop Un po' lungo Infatti temevo Che la palla Arrivasse ai difensori Avversari Invece poi riesce A segnare Uno a uno Si rimette subito In equilibrio La partita Adesso Tutto può Tornare Tra virgolette La normalità Anche se Per raggiungere la vittoria Serve ancora un gol Attenzione La Fiorentina Sembra non avercene più E dobbiamo provarci Noi adesso Ad andare Sul gol Belotti Entra in area Belotti Il tiro Da lì impossibile Riuscire a mettere La potente Sul primo palo Infatti Tataruzano La prende senza problemi Ma siamo ancora noi In avanti La Fiorentina Ha ceduto Riedewald Riedewald Dai ragazzi Dai ragazzi Riedewald Riedewald Cazzo Purtroppo solo un pareggio In questa penultima giornata Di campionato Con la Fiorentina Che ha fatto un tiro Solo in porta Un gol Noi cinque tiri Quattro in porta E purtroppo La Lazio Batte 2-1 Il Milan La Lazio Che è strepitosa Sia la scorsa stagione Che anche questa Purtroppo Arriveremo All'ultima partita Quella contro il Napoli Che siamo Non solo costretti A vincere Ma dobbiamo anche sperare Che perda O comunque Che pareggi la Lazio E quindi Non una bella situazione Purtroppo Quando siamo a una giornata Dalla fine Della Serie A E la Lazio Ha più due da noi Quando manca Una giornata alla fine Allora Purtroppo Era difficile Riuscire a vincerle tutte Dobbiamo comunque Ricordarci che Arriviamo da un periodo In cui le stavamo Vincendo tutte Già da un mese Quindi purtroppo Capita Di pareggiarne qualcuna La Lazio è davvero forte Ultimamente sta vincendo sempre E per noi non è facile Starle dietro Già è positivo Contare il fatto che Eravamo sesti Fino a Un mese E mezzo fa Barra Due mesi fa E quindi adesso Trovarci lì È comunque Un ottimo traguardo La prossima gara È il grande sogno Di poter provare A vincere L'Europa League Con Siviglia Io non ho vinto Tante coppe Nelle mie carriere Perché trovo che sia una cosa Molto difficile da vincere E quindi cerco sempre Di mettere la difficoltà Partita alta Perché non voglio mai Vincere in maniera facile Dei trofei Quest'anno Ci è andata bene Fino ad ora Abbiamo la possibilità Di sognare L'Europa League Poi tornando Dalla finale Affronteremo Il Napoli E dovremo Assolutamente Vincere E sperare Che la Lazio Inciampi L'ultima giornata Conferenza stampa Vado a Parlare bene Del Siviglia Che comunque Deve aver fatto Sicuramente Un'ottima annata Per essere arrivata In finale Contro di noi Battendo Il Real Madrid Sono ovviamente Un pochino deluso Perché non credo Fino in fondo Nei sogni E temo che purtroppo Non dipenderà Da noi L'ultima giornata Del campionato E questa cosa Ovviamente mi dispiace Sono comunque sereno Perché so che Con la Fiorentina Ho dato tanto Ho dato tutto E adesso Cerchiamo di non pensarci E dedichiamoci All'Europa League Che è veramente La cosa per cui Quest'anno Ci siamo emozionati Abbiamo tifato Abbiamo Sofferto Gioito E quindi è giusto Portare a termine Questa competizione E poi dopo Vedremo come andrà La Serie A Io mi fermo qua ragazzi Perché Tra il mal di testa E la stanchezza Mi sembra La cosa migliore da fare Ci vediamo Tra pochissimo Penso Uno Massimo due giorni Con il prossimo episodio E non vi sto neanche a dire Perché dovrete Esserci Lasciate un bel mi piace Al video Grazie di avermi seguito Anche oggi E alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti